Bentornati a SOS Aghezzo TV, buonasera Peppe Marconi. Ciao Fabio. Cosa fai, dondoli? Guarda come, dondola, capito? È dondola qui. È completamente staccato, questo è veramente un pericolo. Siamo nella strada? Diciamo dove siamo. Fracchiani e Salleo. Fracchiani e Salleo e anche Tracchiani è passato di sotto. Sì, vero, vero, vero. Qui dondola veramente. Che ne pensa di questo guardrail qui? Sarebbe l'ora di sistemarlo oppure no? Non è che sia una gran sicurezza. Oddio, per quante cinistra andrà a vedere di sotto che cosa c'è, però non mi sembra una cosa normale insomma. È abbastanza. Grazie. Ha fatto qualcuno con le macchine. È diverso tempo che così. È diverso tempo che così. Questo è veramente un pericolo, una macchina che va di sotto, se lo tocca. Manca una persona che si appoggia. Guarda, lì è proprio appoggiato. Sì, qua addirittura. Qua non è neanche appoggiato, qua vai direttamente di sotto. Qui va direttamente di sotto, guarda. Ma mettiamo una alla notte e non se ne accoggi. Si appoggia, va di sotto. Non ce n'entra a fare. È veramente un pericolo. Poi anche per le macchine che ci passano. La strada è già stretta, non è sempre più complicato. Non c'è neanche un segnale. Andiamo indietro perché qui non se ne parla. Sì, comunque è veramente messo male qui. Poi ci vorrebbe fare anche un segnale di senso unico alternato, cioè dei cartelli che ti indicano che devi dare la precedenza o lasciare la precedenza. Quindi non c'è assolutamente niente. E questa è una strada che è veramente diventata un traffico molto molto importante perché è l'alternativa al raccordo autostradale. E siccome nella zona di Chiani, San Zeno, molti lavorano qua giù, per andare direttamente in Casentino, se tu vieni la sera qui è conterramente una colonna perché utilizzano questa strada qui per evitare tutto il traffico della città. E quindi veramente qui è pericoloso. A questo punto è veramente fatiscente e non è più adatto e adeguato alle esigenze di oggi. Se poi ci metti in guardiale anche così, forse hai fatto in modo che uno ci batta, l'allarghi senza spaccare tanto la macchina. Però se si allarga il pareggio come se vengono ruote di fuori, ti saluto con fretta, vieni di sotto. Abbiamo già stati qui l'anno scorso. Era già in condizioni disperate. Oggi proprio è il cefalogramma piatto. E qui chi se ne dovrebbe occupare? Il comune? Questa è comunale la strada, quindi il comune dovrebbe intervenire. Perché non so, i tecnici che vengono qui, che fanno il controllo della strada, non si sono accorti di una situazione del genere. Questo è veramente pericoloso. Anche perché succedesse qualcosa, credo che il comune ne risponde. Ne risponde perché effettivamente in queste condizioni non è in sicurezza. Siamo in via Molinara per l'esattezza. Bravo, siamo in via Molinara. Tra l'altro vedo qui che hanno abbandonato delle cose. Un vecchio distributore del gas metano auto, era veramente super trafficato, uno dei primi della città. Primo fu in via Fiorentina e il secondo fu aperto questo. Era veramente il punto di ritrovo, specialmente la mattina, per chi allora come me andava in giro con la macchina di trovarsi qui. Qui c'è anche un vecchio cartello del consorzio Bonifica Valdichiana, consorzio Alto Valdarno. È del fiume delle... Dato l'ultimazione dei lavori di dicembre 2017, eravamo finiti? Chissà. Sì, però ho visto che l'acqua è chiara. L'acqua è chiara. Vabbè, speriamo che il Comune metta a posto questa situazione. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao.